Il Duomo di Montreale apre un percorso inedito e le due torri, un nuovo percorso per visitare il complesso abbaziale, un unico e non soltanto perché straordinario. Da oggi è attivo il nuovo percorso di visita che comprende anche il Duomo con il commovente Cristo Pantocratore, l'elegante cappella a Roano, il chiostro, il giro completo delle terrazze, il museo Diocesano, ma anche la Torre Meridionale, di cui si sta completando il restauro proprio in queste ore e che ospiterà quattro nuove sale espositive per accogliere le opere finora conservate nei magazzini del museo. Per il complesso di Montreale si tratta di una nuova antica vita, di fatto chiunque lo visiterà potrà finalmente riassorbirne la storia nella sua interezza, ma si farà anche un'idea della potenza dell'intero progetto monumentale normanno. Il Duomo di Montreale, sede arcivescovile già dai primi anni della sua costruzione, è uno dei massimi esempi architettonici della preziosa testimonianza socio-economico-culturale della dinastia normanna in Sicilia. Eretto nel XII secolo relativamente brevi furono i lavori, dal 1174 al 1189, per rovalere di Guglielmo II d'Altavilla, detto il buono. E' il segno tangibile della dichiarata concorrenza con la cattedrale di Palermo, voluta negli stessi anni dall'arcivescolo del capoluogo. Il Duomo di Montreale racconta meglio di un libro d'equilibrio perfetto tra i due poli di potere. All'edificio, consacrato nel 1185, si aggiungeranno presto un'abbazia benedettina e il Palazzo Reale, trasformato alla fine del Cinquecento nel seminario arcivescovile e a cui si annette un chiostro. Per completare l'opera vennero coinvolte le migliori maestranze, in parte forse veneziane, in parte arabe, bizantine e locali. Nacque così un capolavoro di originale sintesi stilistica e artistica. Senormanna è la pianta basilicale e quindi la struttura del Duomo, è la parte posteriore a denunciare il gusto islamico. Il Duomo di Montreale custodisce un tesoro di straordinaria importanza storica. Al suo interno troviamo anche la figura del Cristo Pantocratore, vestito in rosso e oro, con un mantello azzurro sulle spalle, di iconografia tipicamente orientale. Nella chiesa sono conservate anche le tombe di Guglielmo I, detto il Malo, e dello stesso fondatore, Guglielmo II, detto il Buono.